l'edicola la rassegna stampa di tg plus anche questa mattina che parte dalla nuova di venezia e mestre per quanto riguarda la provincia di venezia andiamo subito sulla prima pagina della nuova via via piave 15 arresti e la risposta allo spaccio c'è stata una grande blitz ieri dei carabinieri e l'operazione iniziata nel 2018 è continuata per cinque anni il caffè era l'eroina il latte la cocaina albanesi tunisini alcuni senza fissa dimora uno di loro disperato telefona alla moglie e si impicca l'abbiamo visto poi lo vedremo anche su altre pagine di giornali questa è stata una insomma ci sono anche le immagini tra l'altro nel nostro sito di tutto quello che è successo romea e treni che oggi è isolata il sindaco protesta a roma e fa e casella la stangata condanne per 20 anni e sempre si parla del processo di eraclea poi c'è una notizia curiosa qui in alto brugnaro show blocca i ciclisti e minaccia le multe un po come gentilini quando gentilini a treviso faceva quelle cose con i cestini dell'immondizia che chiamava naturalmente gli operatori ecologici per sistemare le cose andiamo su gazzettino e vediamo mestre la ragnatela della droga 26 arresti è una notizia di cui abbiamo parlato poco fa se ne parla moltissimo dopo ognuno la legge è stata è arrivata un po questa notizia in pompa un po su tutte le le agenzie poi naturalmente ognuno l'ha gestita a bando proprio qui si parla proprio di via piave la ragnatela della droga dei 26 arresti migranti l'unione europea dia le risposte presidente dell'eu parlamento per molti cittadini è il problema primario dobbiamo assolutamente risolverlo ben meno male che se non sono accorti orso avvistato nelle alpi nelle pre alpite trevigiane ancora si parla di orsi è stato immortalato da una fototrappola si parla di elettrolux ma anche in altri giornali e andiamo a vederlo su corriere del veneto nella fotonotizia elettrolux firmato l'accordo in fabbrica entra il timer 5 agenti arrestati per tortura questa è un'altra delle notizie che imperano oggi sui giornali verona altri 18 trasferiti il questore dura indagare su colleghi ma la polizia è trasparente e vediamo che anche la politica tosi il reato va rivisto più garanzie ai poliziotti la sinistra chiede subito le body cam sulle divise che probabilmente potrebbe essere anche un'ottima idea e il telemarketing selvaggio multe a quattro società sono quelle che ti telefonano anche di questo vedete che anche del blitz antidroga qui proprio si parla del fermato che una volta beccato si è si è impiccato si è ucciso andiamo a vedere anche la pagina di venezia di notizie plus ancora si parla del pnrr fondi di coesione incontro tra fitto e zaia e poi nelle altre notizie per esempio se andiamo all'interno della nostra della nostra pagina troviamo la notizia di cui abbiamo parlato poco fa questo raid antidroga dei carabinieri noi abbiamo scritto in varie province però poi sotto viene spiegato un po tutto e c'è anche un filmato che fa vedere proprio l'operazione poi se volete andare a vederlo potete andare a vederlo sulla nostra pagina è tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti